La domanda è, perché pagare un prezzo premium per un prodotto DS piuttosto che scegliere un'alternativa di altri marchi, magari tedeschi? Le do 60 secondi per rispondere a partire da ora. DS è un giovane marchio francese che si pone come ambizione quella di proporre il savoir-faire alla francese nel mondo dell'automotive. E questo savoir-faire lo si vede sostanzialmente in alcuni elementi ben precisi. Lo si vede nel design, all'avanguardia, perché l'avanguardia è uno degli elementi che caratterizza il DNA proprio del marchio. Il design lo si vede in tutta la gamma, da DS4, DS5 e adesso nuova DS3. Oltre al design parliamo anche di attenzione ai dettagli, raffinatezza. Un esempio per tutti è la lavorazione a braccialetto d'orologio dei sedili, l'utilizzo di pelle per rivestire la palancia di nuova DS4, quindi dettagli raffinati ed eleganti. Un comfort e tecnologia che si ritrovano non solo negli allestimenti a bordo tipo il DS Connect Nav di DS5 o il mirror screen su tutta la gamma, ma anche e soprattutto nelle motorizzazioni che spaziano da motori più artecchi fino all'ibrido di nuova DS5. Grazie!